Sono le due aspettative più importanti nel mondo dell'edilizia eugubina e non solo. Sono il PUC 1 relativo al parcheggio di San Pietro e il PUC 2 dell'ex ospedale di Piazza 40 Martiri, rimasti al palo dopo il naufragio dell'amministrazione Guerrini. L'ultima azione di San Pietro è legata a doppio filo alla vendita del palazzo di via 20 Settembre, la proprietà pubblica dalla cui asta dovrebbero arrivare i soldi per finanziare la fine lavori del parcheggio. Quanto all'ex ospedale la situazione è in alto mare, il Comune deve ancora acquistare l'immobile dalla Regione e l'accordo che la Giunta Guerrini aveva trovato con l'ente regionale resta inattuato. A questo si aggiunga che il finanziamento concesso pari a 6 milioni di euro deve essere utilizzato entro il 2015, ormai data impensabile per tagliare il nastro del PUC 2 finito. Probabile che in autunno la Giunta regionale decida di togliere quei 6 milioni di euro a Gubbio utilizzandoli per finanziare altri progetti in Umbria ed inserire l'ex ospedale di Piazza 40 Martiri nella programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, il che significa aspettare un nuovo bando, partecipare con un progetto e solo a seguire dare il via al cantiere, tempi di certo non brevi. Di questo hanno parlato ieri la Presidente Marini con il commissario D'Alessandro a margine dell'incontro sulla Pian D'Assino con l'impegno della governatrice a non abbandonare Gubbio. Oggi la riunione di lavoro sarà su questo. Ovviamente noi abbiamo dato sempre grande disponibilità ai comuni, al comune di Gubbio e ai sindaci e alle giunte comunali quando ci è stato chiesto come regione di definire le priorità, le opere che si volevano realizzare in Umbuca. Lo continuiamo a fare con la struttura tecnica e con il commissario in questa fase. Quello che posso dire è che ovviamente questi PUC sono finanziati anche con risorse comunitarie che hanno regole e tempi per essere utilizzati. Ovviamente come regione, dato che qui ci sono risorse importanti che la regione ha destinato alla città, non possiamo neanche consentire che queste risorse vadano disperse perché le vicende dell'amministrazione non hanno consentito nei mesi passati di realizzare secondo la tempistica e secondo le regole che l'Unione Europea ci impone i lavori che il comune di Gubbio aveva previsto. Al tempo stesso noi pensiamo come giunta regionale di assumerci comunque l'impegno di accantonare anche sulla nuova programmazione le risorse che potranno servire a Gubbio per la riqualificazione urbana e da concordare anche con l'amministrazione comunale e con il sindaco che uscirà dalle urne il prossimo anno.